Ciao a tutti, oggi vedremo come realizzare questo ciondolo composto da pasta polimerica effetto marmo e filo di metallo piatto. È davvero molto semplice da realizzare ma di grande effetto. Vediamo quindi la corrente. Per questo lavoro serviranno pasta trasparente, due colori a scelta di pasta, cutter, la lama, rullo macchiana della pasta, filo di alluminio piatto, nel colore che più ci piace, e poi pinze a punta piatta, tronchesina e conica. Quindi cominciamo! Prendiamo il trasparente e lo rendiamo una sfoglia di massimo un paio di millimetri di spessore, poi prendiamo due colori di pasta e li rendiamo dei tubicini di uno spessore variabile, non importa quanto siano grandi o piccoli, e li tagliamo a pezzettini e cominciamo a metterli su questa sfoglia. A questo punto mischiamo insieme le varie paste. Prendiamo ora un pezzettino di filo di alluminio e con le mani e le pinze lo modelliamo, utilizziamo quindi la base nella forma che più ci piace. Ho ottenuto quindi la base, io ho fatto questa forma a goccia un po' particolare, un po' strana. Prendiamo la pasta e la stendiamo in una sfoglia di circa 5 mm di spessore, quindi su di essa vi adagiamo la base e premiamo sia con le mani e che con il rullo, dopodiché togliamo la pasta in eccesso. Ok, una volta che abbiamo riferito il lavoro, lo possiamo quindi cuocere in un fornetto di circa 20 minuti a 130 gradi. Una volta fra il bocchio come si presenta e volendo potete aggiungerci un po' di varnice finale lucida, però a me piace anche così opaco. Ne ho fatto un altro con il viola, questo mi piace davvero tantissimo. E quindi a questo punto il nostro ciondolo è pronto per essere utilizzato per una collana ma anche in versione più piccola per gli orecchini. Al saluto se questo lavoro vi è piaciuto mettete un mi piace al video e fatemelo sapere con un commento qui sotto. Fatemi anche sapere se volete altri video su questa tecnica in cui vi faccio vedere come fare altri ciondoli magari cambiando la forma di base. E come sempre iscrivetevi al canale per non perdere i vostri video. Ci vediamo quindi mercoledì prossimo, ciao a tutti!